Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Oggi parliamo di nuovo di D-Landog col numero 403, la lama, la luna e l'orco. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che amano il genere fumettistico di D-Landog e non, di commentare con quello che pensate di questo numero di D-Landog. Vi ricordo sempre che nella mia descrizione sotto al video ci sono sempre dei link che metto per fare degli acquisti su Amazon che contribuiscono senza nessun dispendio da parte vostra a sovvenzionare il mio canale e in questo periodo, visto anche quello che sta succedendo a livello italiano negli ospedali e che ha colpito in particolar modo la mia città che è la città di Bergamo, ho messo anche un link di crowdfunding per acquistare appunto delle tavole a fumetti donate da molti autori italiani e questi acquisti che farete andranno direttamente nelle tasche dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che è l'ospedale maggiore di Bergamo. La lama, la luna e l'orco si inizia sempre di più a dipanare la nebbia che c'è attorno a questa mini serie di sei numeri chiamata Dylan Dog 666, Dylan Dog 666 che sta rinarrando le origini dell'indacatore dell'incubo. Ci mostra un'origine leggermente diversa a quella che ci ricordavamo nei primi numeri o nel numero 200, in cui Dylan Dog è ancora un bevitore, alcuni dicono addirittura è già un alcolista, se non lo scrivessero nel numero io non lo definirei ancora alcolista, è un bevitore. Prima di essere stato un indagatore dell'incubo, come sapevamo è stato un agente, un cadetto di Scotland Yard, però ha avuto anche una piccola parentesi in un cimitero, in un cimitero in Scozia, dove ha conosciuto il suo assistente, che è Gnaghi, un rimando all'assistente di Francesco della Morte, protagonista del libro della Morte e dell'Amore, sempre scritto da Tiziano Sclavi. Libro che è abbastanza introvabile, ma che a causa anche di questa quarantena forzata per colpa del virus, Tiziano Sclavi è stato così gentile da diffonderlo gratuitamente in PDF. Se siete interessati ad avere il PDF di Della Morte e dell'Amore, iscrivetevi al mio gruppo Telegram e chiedetemelo che vi invio il PDF. Già nel Dilan Dog Horror Club c'è il solito editoriale di Roberto Recchioni, che ancora prima di entrare nella storia del fumetto fa una citazione a Dilan Dog, che a sua volta è un'altra citazione a un film di cui porto la maglietta oggi non a caso. Dice, se uno spirito sumero dovesse infestare il vostro frigorifero, lui sarebbe la persona giusta a cui rivolgersi, e anche l'unica, lui inteso Dilan Dog. Lo spirito sumero che infesta il frigorifero è un chiaro rimando a Ghostbusters, il primo film del 1984, che se non avete mai visto siete delle brutte persone. Ma se volete recuperare vi metto il Blu-ray in descrizione così lo acquistate e contribuite al canale, ma è anche a sua volta una autocitazione al numero 1 di Dilan Dog, dove Dilan Dog appunto cita questo fantastico film del 1984, Dilan Dog uscito nell'86, quindi era già cult da due anni questo film. Se i primi due numeri di questa mini saga Dilan Dog 666, ovvero il 401 e il 402, sono serviti come remake per il numero 1 di Dilan Dog, l'alba dei morti viventi, con un semplicissimo epilogo alla fine che rimandava invece al numero seguente, che cronologicamente sarebbe dovuto essere Jack lo squartatore, in questo numero 403, che è il terzo di questa mini saga, la trama di Jack lo squartatore, cioè il rimando al numero 2 di Dilan Dog classico, è semplicemente accennata e risolta nelle prime pagine di questo fumetto. che è anche una cosa molto interessante, perché comunque la storia è quella, ci hanno mostrato solo il finale, quindi questa storia c'è stata, se volete sapere come è andata potete andare a recuperare il numero 2, che se riesco vi metto sempre in descrizione, e ci fanno vedere le conseguenze di quello che è successo alla fine di questa storia, cioè un dialogo tra l'old boy e il suo padre adottivo, il soprintendente Block, di come stanno affrontando l'argomento del paranormale, del sovranaturale, e allo stesso tempo anche la trama del numero 3 del Dilan Dog classico, Le notti di luna piena, è semplicemente accennata, c'è un rimando in questo numero. Quindi né Jack lo squartatore né Le notti di luna piena sono la trama principale di questo, chiamiamolo remake, reboot della saga di Dilan Dog, ed è una scelta, una virata se vogliamo dire, molto coraggiosa, non coraggiosa, è una scelta giusta, perché se avessero fatto probabilmente 6 numeri tutti uguali ai primi 6 numeri di Dilan Dog, molte persone si sarebbero stufate. Qua si inizia a ripagare un attimino il famoso salto della fede che ci ha chiesto Roberto Orecchioni nell'editoriale del 401. Quindi il numero 2 e il numero 3 del Dilan Dog classico sono semplicemente accennati in questo 403, sono degli omaggi a quelle storie, mentre la storia principale è un caso che sta seguendo il soprintendente block, con cui appunto condivide con Dilan alcuni fatti, ovvero un serial killer che sta uccidendo in modo abbastanza brutale, abbastanza splatter, le sue vittime. Ciò che accomuna le vittime è il fatto che sono uccise tutte seguendo delle barzellette, quindi stanno cercando un comico fallito. Ebbene sì ragazzi, molto probabilmente vedremo Graucio molto prima di quanto pensiamo, quindi questa è una cosa molto positiva, ma potrebbe essere anche il Big Bad, potrebbe essere il villain di questa minisaga. Chi può dirlo? Oppure ancora, cosa che io ho pensato all'inizio quando parlavano di comico fallito, prima di vedere una tavola particolare di questo fumetto, che probabilmente potrebbero assumere Graucio come aiutante esterno per individuare un comico fallito. Ma la strada che sia proprio Graucio stesso il serial killer è molto innovativa e potrebbe essere la strada che Recchioni ha scelto di intraprendere per farci cadere tutti dalla sedia. E devo dire che è una strada che potrei anche condividere se però Graucio poi entri a far parte dei buoni. La vignetta a cui mi riferisco è questa, che chiaramente è una ricostruzione, non la vediamo davvero, è una ricostruzione che il padre di una delle vittime racconta a Dylan Dogg e noi vediamo questo flashback. Ovviamente il padre di Dylan Dogg non ha visto il serial killer, ma nell'immaginario del padre della vittima ha le sembianze di Graucio, Marx. Graucio Marx che è anche stato nominato da Dylan Dogg quando era ubriaco. Ha detto ah sì, Graucio direbbe così, ma chi è Graucio? Quindi scopriamo anche che questa saga reboot è un vero e proprio post-meteora, quindi Dylan Dogg sta iniziando, pare, a ricordare che c'è già stato qualcosa nella sua vita precedente, nella sua vita pre-meteora. Non so questo se è una strizzata d'occhio ai fan che non vogliono che questa nuova saga sia una passata di spugna sul vecchio corso e che quindi Recchioni sta dicendo guardate che non stiamo cancellando tutto il resto perché Dylan Dogg ha qualche ricordo, oppure se è solo un metalinguaggio, quindi si sta parlando al di fuori della storia. Dylan Dogg è sempre molto particolare. In questa storia non si risolve questo caso del serial killer, per questo dico che potrebbe esserci una macro trama più grande in cui si potrebbe andare a conoscere una certa versione di Graucio, ma c'è comunque una trama verticale in cui c'è un caso di ragazza scomparsa che viene concluso, viene risolto da, diciamo da Dylan Dogg, anche se è stato aiutato, anche se è noto che questo Dylan Dogg 666 ha un intuito da detective davvero tale, non come il suo predecessore classico e alla fine della storia anche qui c'è un epilogo che rimanda alla storia successiva che dovrebbe essere appunto, chiamiamolo sempre remake, del numero 4 di Dylan Dogg, il fantasma di Anna Never. Tra l'altro vi dico già che il numero 4 di Dylan Dogg è uno dei numeri, dei primi numeri famosi che non ho letto, quindi non coglierò le citazioni così come le ho colte in questi primi tre numeri, ma da qui al mese prossimo spero di riuscire, nonostante la quarantena, a recuperare il numero 3, il fantasma di Anna Never, magari anche in PDF se volete mandarmelo voi nel gruppo Telegram, in modo che lo leggo e posso fare dei collegamenti e delle citazioni. Parlando invece puramente della storia, la storia mi è piaciuta tantissimo, come ho già detto prima, c'è stata una virata interessante, si è aperto uno scenario verso una storia nuova, verso quello che potrebbe essere una trama orizzontale nuova, si chiarisce sempre di più il fatto che i veri mostri non sono i mostri ma sono gli esseri umani, a detta stessa di una delle persone che hanno commesso un delitto in questo numero, quindi Dylan sta facendo un percorso, un percorso che a parer mio, credo anche alla luce del fatto che lo vediamo bere diverse pinte all'inizio della storia ed essere rimproverato da suo padre all'inizio e verso metà storia Dylan teme di essere rimproverato da Gnaghi, quindi comunque il problema dell'alcolismo non migliorerà in questi sei numeri ma andrà a peggiorare molto probabilmente arrivando a un punto critico che potrebbe essere fatale per qualcuno. Se volete non uno spoiler ma una mia teoria molto probabilmente i colpi di scena saranno i seguenti. Vedremo Graucio in una veste nuovissima che potrebbe essere anche quella del cattivo, non per forza un cattivo cosciente di esserlo, potrebbe essere magari uno svitato, una persona con una doppia personalità che magari nella sua personalità da Graucio riesce a essere buono ed è per questo che non esce mai dal personaggio, che non uscirà mai dal personaggio e potrebbe esserci molto probabilmente la perdita, inteso come la morte di Gnaghi, non tanto per mano del cattivo di turno ma per mano di una colpa di Dylan Dogg, dell'alcolismo di Dylan Dogg e molto probabilmente potrebbe essere questo il motivo che spingerà questo Dylan Dogg a smettere di bere. O perché no, dopo questo Graucio potrebbe aiutarlo a smettere di bere come è successo nel numero 200. Ovviamente mi piacerebbe un sacco aver indovinato la trama ma allo stesso tempo non vorrei avervela rovinata nel caso avessi ragione, quindi spero che ci siano delle sorprese. Ci sono state in questo numero quindi ce ne saranno altrettante sicuramente. Infine volevo spendere ma proprio due parole di numero perché non sono uno che si attacca tanto a queste cose sulla copertina di Dylan Dogg che come sempre ha questo effetto metallico nella scritta e anche questo effetto metallico nella lama di Jack lo squartatore diciamo che obiettivamente quando le l'edicolante stamattina me l'ha posto, tenete conto che erano anche le 7 del mattino, ho dormito quattro ore, quando l'edicolante me l'ha posto al rovescio ho visto questa cosa qui, ho detto ma che devo grattare, vinco qualcosa, è un gratta e vinci mi ha dato. Quindi lì per lì non mi è piaciuto molto, poi quando l'ho letta, l'ho vista nel verso giusto, ok è carino, non è proprio il mio genere però apprezzo il fatto che stiano rendendo questi numeri delle piccole perle anche da da tenere a livello collezionistico, si dice collezionistico non lo so. Bene con questo è tutto, ho fatto la recensione a caldo quindi spero di non essere stato troppo confusionario, sicuramente avrò perso qualche citazione, anzi ve la dico adesso, ho perso quella di di Giorgia Romero che esce dalla tomba e cerca di uccidere Dylan Dogg, così ho detto anche quella. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, in questi giorni sarò in live lunedì e martedì guarderemo insieme Harry Potter su Italia 1, se vi piace anche Harry Potter possiamo guardarlo tutti assieme e commentarlo. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video.